Una mano tesa alle persone in condizioni di grave indigenza. Il progetto Lawers for Poor, Avvocati per Poveri, ha come obiettivo la tutela e la difesa delle persone che non possono permettersi un avvocato. Quattro associazioni di consumatori impegnate da sempre nel sociale, Movimento Consumatori, Adconsum, Kodakons e Confconsumatori, garantiscono da febbraio scorso l'assistenza legale gratuita alle fasce più deboli della popolazione, come gli anziani, gli extracomunitari e gli italiani indigenti. Finora il progetto ha sostenuto 500 interventi, soprattutto pareri stragiudiziali, ma anche patrocini legali. La novità di questo progetto è proprio questa forte collaborazione, questa partnership che si è venuta a creare tra delle reti di solidarietà splendide che già fanno benissimo il loro lavoro da tanto tempo e le associazioni dei consumatori pugliesi che a questo punto garantiscono, si sforzano di garantire un servizio, un piccolo valore aggiunto in più in favore dei poveri. Secondo i dati Istat, il 12% della popolazione povera italiana vive in Puglia. Chi sono gli indigenti? Beh, ovviamente possono essere anche l'ex famoso cetomedio che all'improvviso in una famiglia arriva un divorzio, una perdita di lavoro, che all'improvviso si trova a dover diventare utente del centro. Il dato allarmante di quest'ultimo periodo è proprio che presso i centri di assistenza non ci sono più solo immigrati, ma italiani che non riescono più ad andare avanti nella loro giornata.